Ho letto qualcosa. Posso dire che mi sembra che sia stato fatto un lavoro certosino per aiutare la classe arbitrale su quello che loro non sono contenti in questo periodo qui. Poi non ho capito bene se si riferiscono al fatto che hanno avuto pochi rigori loro, che ne hanno dati troppi a noi. Vedremo poi in futuro. Io so una cosa per certo. Che nelle 19 partite dell'anno scorso la Roma ha avuto un rigore e che nessuno ha chiesto niente e è andato a fare poi abbinamenti con le altre squadre. Nessuno. Perché io non l'ho mai fatto e qui non si è permesso nessuno. Sempre detto non bisogna pensare al nostro gioco. C'è stato dato il primo rigore in quella partita dove ci furono tre episodi di mano clamorose e c'è stato dato al terzo episodio. Il primo rigore di 19 partiti. Poi se loro volevano chiedere qualcosa e vogliono usare noi, siccome loro sono bravi, sono forti, si devono prendere anche qualche handicap perché gli allenatori forti fanno in questa maniera qui, se no noi un po' più deboli come si fa a colmare la differenza che c'è da quelli bravi.